Musica Finalmente il grande momento, la grande serata del mio primo concerto di Schumann è arrivata tra poco andremo tutti sul palco a suonare questo bellissimo concerto e erano tantissimi mesi che aspettavo questa serata infatti mi sono impegnata molto a studiare poi sapendo che nel pubblico ci sono anche tanti amici, tanti parenti, tantissimi conoscenti insomma sono molto emozionata ma anche molto felice spero che sia una bella serata insomma credo che il pubblico risponderà bene a questo concerto ecco sì Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.